La votazione finale assegnata a questo prodotto di Yald è di 8.2 voti su 10. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. I suoi punti di forza sono. Stile, ottimo rapporto qualità prezzo. Comodo, ottimo come idea regalo. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto complessivo di questo articolo di Fandare è di 8.8 su 10. Risulta essere il più votato per questa categoria con 1983 valutazioni. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Stile, comodo, robustezza, ottimo rapporto qualità prezzo, impermeabile. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Vaschi è di 9.4 su 10. Questo è il migliore di questa selezione. Si presenta come una delle migliori soluzioni per questa tipologia di prodotto. È adatto alle esigenze di chi cerca prodotti con un buon rapporto qualità prezzo. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Stilord ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.8 su un totale di 10 punti. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità, è un articolo capace di accontentare un po' tutte le tipologie di utenti. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Istpac ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. I suoi punti di forza sono. Impermeabile. Versatilità. Ottimo rapporto qualità prezzo. Per viaggi. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Invicta ha riscontrato una valutazione di 9 su 10 totali. È il più desiderato. Un giudizio mediamente positivo per un articolo dalle prestazioni più che soddisfacenti. Si rivela essere un'ottima soluzione. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. La valutazione di questo prodotto di Fandare è di 9.2 voti su 10. Online, risulta essere il più venduto. Le sue principali funzionalità sono. Comodo. Impermeabile. Versatilità. Stile. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.